Dopo la sconfitta all'ultimo tuffo con Montevarchi, l'Amenes con la basket a Rezzo esce sconfitta anche dalla trasferta di Asciano contro Manca Kras, formazione che si presentava a questo match al penultimo posto della classifica. La formazione senese si è imposta per 78-70, lasciando con la mano in bocca la truppa retina. A cinque giornate nel termine del girone di ritorno, l'Amenesba si trova al terzo posto alle spalle dell'Audax Carrara che ha battuto a 74-59 il Villa Basket, mentre scappa la capolista Labronica Livorno, avendo avuto la meglio nettamente sull'Ottigalli. Asciano si conferma bestia nera dell'Amen che già era passata all'ultimo secondo nella gara di andata. La formazione senese è molto cresciuta nell'ultimo periodo e lo ha confermato anche contro gli Amaranto. Sabato prossimo nuova trasferta dell'Amenesba a Viareggio contro il Vela Basket. Non si può più sbagliare.